Sì, ma è che c'è qualcosa di solito? Tu che arrivi dalla collina, guardalo, guardalo con lo sguardo da San Damiano. Dignelo, come faccio il buon arda io, non lo fa nessuno. Come stacco le bottiglie io, non lo fa nessuno. Ascettati, ma è un mezzo? Dici, è il momento di guardare, te lo persi così. Sì, è il momento di guardare, te lo persi così.